Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata dove tratteremo Leonardo da Vinci. In particolare quest'anno con i 500 anni dalla sua morte tutti ne hanno parlato, ma noi ne vogliamo dare un tratto particolare, vogliamo trattare Leonardo e la sua esperienza a Milano. Milano che è la città che l'ha colto per quasi 25 anni, quindi una città molto importante per lui. È logico, diciamo due parole inizio sulla sua carriera, sulla sua vita. Lui nasce nel 1452 a Vinci e morirà nel 1519 in Francia. Quindi la sua attività, logicamente, si concentra all'inizio a Firenze. Il suo maestro è il Verrocchio e proprio nella sua bottega può inconoscere tanti altri allievi. Lorenzo di Credi, il Ghirlandario, Perugino e il Botticelli, Desidero da Settignano. Quindi lui è contornato non da semplici allievi, ma da mostri sacri come lui. Quindi pensate come può crescere un giovane allievo in mezzo a tutti questi artisti stimolanti, a sua volta, anzi delle volte quasi rivali. Nella bottega del Verrocchio inizia a dipingere. Ci sono alcune immagini che adesso poi noi vedremo, tra cui appunto un suo angelo che crea nel dipinto del Battesimo di Cristo. E questo angelo è molto particolare perché supera, logicamente, il maestro. È uno dei pochi casi in cui l'allievo supera il maestro. Non sappiamo se in questa prima fase fiorentina produca anche delle sculture. Nelle varie mostre che si succedono, che sono succedute in questi anni, ci sono state tante attribuzioni di sculture, soprattutto in terracotta, attribuite a Leonardo. Non si sa poi quanta mano abbia messo il Verrocchio, quanta mano abbia messo Leonardo. Quindi il mistero del Leonardo scultore è ancora lontano da essere decifrato. Ma vediamo che subito come pittore ha grande successo. Ha alcune commissioni a Firenze e alcune di queste le lascia incompiute, tra cui la famosa adorazione dei magi, che adesso è conservata agli uffizi, che lascia incompiuta proprio per partire per Milano. Allora, concentriamoci su Leonardo a Milano. Siamo nel 1482. Innanzitutto perché Leonardo sceglie Milano come città. Firenze gli sta un po' stretta, ci sono troppi rivali a destra e a sinistra. Milano è un ducato che si sta emancipando. È un ducato che è ancora legato all'influenza tardogottica. Quindi era un ducato che era rimasto un po' indietro rispetto alla novità fiorentina, del Brunelleschi, di Desiderio di Settignano e di tanti altri. E vede che Milano è una città che si sta sviluppando, sia come città stessa, sia come ducato. A quell'epoca Milano possedeva anche parti territori del centro Italia e quant'altro. E soprattutto c'è una figura nuova a Milano, che è Ludovico il Moro. Ludovico il Moro inizia un rinnovamento della città, proprio in suo onore. Ha chiamato da poco il Bramante, quindi dall'area marchigiana, da Urbino, Urbania possiamo dire, e ha chiamato Bramante per ricostruire alcune chiese, tra cui Santa Maria delle Grazie presso San Satiro, nell'odierna Via Torino, e soprattutto per costruire il suo mausoleo. Dove fa costruire il mausoleo? Ricostruendo la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa dei Domenicani, che si trovava molto vicino al castello. Innanzitutto gli Sforza spostano la propria residenza dall'odierno Palazzo Reale, che all'epoca era Palazzo Ducale, la spostano all'interno della corte del castello Sforzesco. E quindi la chiesa di Santa Maria delle Grazie diventa il fulcro di questo rinnovamento. Prima con Bramante, col mausoleo, e contemporaneamente anche con Leonardo, che fa il famoso Cenacolo, proprio per la stessa chiesa. Quindi sono gli stessi anni, più o meno, 1490. Ma qui siamo andati già un po' oltre. Parliamo innanzitutto di come si presenta Leonardo a Ludovico il Moro. Si presenta con un curriculum. E questo curriculum ce l'abbiamo ancora. Sono dieci punti che lui scrive. Ed è molto interessante vedere che in questi dieci punti, i primi nove riguardano l'architettura militare. Si dice che Leonardo è capace di deviare i canali, i navigli, di costruire ponti, di rinforzare torri, di rinforzare i bastioni. E solo all'ultimo punto, quasi in maniera mimetica, ci racconta che lui è anche pittore, scultore. Ma lo mette come ultimo punto, perché sapeva che Ludovico il Moro necessitava piuttosto di un ingegnere e un architetto militare. In realtà nel 1482, quando Ludovico il Moro accetta la presenza di Leonardo a Milano, capisce che è una persona, diciamo così, eclettica, che può fare di tutto. Innanzitutto nel 1482 viene incaricato di fare una scultura incredibile. La scultura di Francesco Sforza, avo di Ludovico il Moro, e doveva essere una scultura equestre, un grande cavallo con in groppa Francesco Sforza. C'erano già stati due cavalli importanti di bronzo, i due primi cavalli di bronzo dell'era moderna. Il Gattamelata, fuso da Donatello, e si trova attualmente davanti alla Basilica di Sant'Antonio di Padova, e il Colleoni, guarda caso, proprio fuso dal Verrocchio, il maestro di Leonardo, che si trova adesso attualmente davanti alla chiesa di San Giovanni e Paolo, presso Venezia. Quindi l'idea era quella di un terzo monumento, che sarà un po' il tema centrale dell'attività di Leonardo a Milano, che però non porterà mai a termine. Lui crea un modello di una certa dimensione, abbastanza quasi scala uno a uno, ma dopo fa una scelta diversa. All'inizio pensa ad un cavallo rampante addirittura, magari con un nemico sotto le zampe del cavallo per reggere la scultura, ma vede che la scultura potrebbe avere dei problemi statici. Fa moltissimi disegni e poi cambia idea. Pensa di fare un cavallo, solo il cavallo era alto 7 metri, ed era il cavallo al passo, diciamo così, quindi non più rampante. Costruisce il modello in Creta e quando proprio si era pronti per la fusione in bronzo, tutto il bronzo serve a Ludovico il Moro per fare invece armi e cannoni e combattere contro Luigi XII, che poi sarà il suo peggior nemico, perché Ludovico il Moro perderà la guerra e sarà in carcere. Quindi Leonardo vive questa esperienza milanese legata anch'essa alla scultura con enorme frustrazione, perché era vicino quasi alla costruzione di questa scultura in mane e invece perderà la partita. Se voi venite a Milano e andate all'ippodromo, è stato collocato una riproduzione di questo cavallo realizzato da un magnate americano e con solo il cavallo, il cavallo al passo, cercando di studiare i disegni di Leonardo. Logicamente è qualcosa di simile, non è una scultura di Leonardo. La cosa che spiace è che il comune abbia avuto la cattiva idea di posizionarlo all'ippodromo, non ha nessun senso, perché quello è un cavallo equestre dove sopra ci dovrà essere Francesco Sforza, quindi è un cavallo da stare in una piazza pubblica, una piazza in centro, quindi questo regalo è stato mal assortito e posizionato in un luogo eccentrico, la città dove nessun turista lo vede e quindi non si può neanche raccontare questa bella e interessante storia che vi ho illustrato. A parte il Leonardo scultore, la prima opera pittorica di Leonardo è del 1483 e anche qui ci sono molti misteri. È la famosa Vergine delle Rocce. La prima versione viene realizzata per la chiesa di San Francesco Grande a Milano. Se voi venite a Milano non troverete più questa chiesa, perché il signor Napoleone Bonaparte l'ha distrutta completamente. Era la seconda chiesa più grande dopo il Duomo, quindi pensate che danno ha fatto, in questo caso, Napoleone, sostituendola con una caserma, la caserma che si trova adesso dietro le spalle di Sant'Ambrogio. Per una confraternita dell'Immacolata crea la Vergine delle Rocce. Ci impiega molto impegno, cambia un po' il soggetto rispetto a quello pattuito e inizia una causa ventennale. I committenti non accettano l'opera perché per motivi teologici, movimenti, c'è un angelo, come potete poi vedere nell'immagine, che fa un movimento molto particolare. Sembra che indichi il grembo di Maria oppure indica San Giovannino. Non si capisce quale dei due sia San Giovannino e quale il Gesù Bambino. Logicamente quello che tiene abbracciato la Madonna in realtà è San Giovannino, nessuno se lo aspetterebbe, e quello che tiene abbracciato l'angelo è in realtà Gesù Bambino. Quindi per questi motivi l'opera viene rifiutata e Leonardo deve farne una nuova. Questa opera che viene rifiutata la potete trovare oggi al Museo del Louvre, ben esposta vicino alla Gioconda. Mentre la nuova versione che realizza poi alla fine del soggiorno milanese e riprende poi nel Cinquecento quando ritorna a Milano dopo la caduta del Moro, la potete trovare oggi alla National Gallery di Londra. Anche qui è molto bello vedere le due differenze dell'opera e sicuramente nella seconda versione la mano di Leonardo è molto ridotta, ha utilizzato molti collaboratori per portarla a termine perché appunto questa causa ventennale proseguiva e lui doveva comunque consegnare un'opera prima o poi. Prima opera, appena Ludovico il Moro capisce le abilità di Leonardo Pittore gli fa dipingere due delle sue amanti. La famosa dama con l'ermellino che tutti conoscete conservata in un museo di Cracovia è in realtà Cecilia Gallerani, una bellissima dama, figlia di un notaio senese che diventa l'amante del Moro, gli dà anche un figlio, Cesare. Come mai questo ermellino? Beh, sappiate che quello che tutti chiamano ermellino non è un ermellino ma un furetto. Dove vedeva Leonardo questi furetti? Beh, molto spesso Ludovico il Moro andava a Bormio. Magari a qualcuno di voi è capitato andare alle terme, i bagni vecchi e i bagni nuovi di Bormio. Bene, sappiate che anche Ludovico il Moro nel 400 andava ai cosiddetti bagni vecchi, ci sono ancora alcune vasche che lo ricordano e proprio viaggiando verso Colico, verso Sondrio, Morbegno e poi a Bormio ecco che Ludovico il Moro e Leonardo incontravano questi furetti e ma perché poi associarlo alla dama con l'ermellino alla Cecilia Gallerani? Proprio perché in greco il nome di ermellino si dice Gale e quindi questo Gale era come fosse il nomignolo di Gallerani. Possiamo pensare che nell'intimità chiamava la sua amata non Gallerani ma semplicemente Gale. Ecco spiegato perché questo animale che in realtà è tutt'altro che amoroso un animale un po' così, un po' ispido potremmo dire. Ecco spiegato a causa dell'etimologia del nome greco. L'altra fanciulla che ritrae, Lucrezia Crivelli, forse, diciamo forse col beneficio di inventario, potrebbe essere la Belle Ferroniere, così è conosciuta questa dama, conservata al Louvre e potrebbe essere la seconda amante di Ludovico il Moro, Lucrezia Crivelli. Quindi il lavoro si fa sempre più attivo. Ma non abbiamo neanche un ritratto di Ludovico il Moro fatto da Leonardo. Questo ci fa un po' pensare. Allora, secondo me due sono le ipotesi. Uno, il fatto che Ludovico il Moro sapeva quanto era lento nel dipingere Leonardo e quindi non gli ha fatto fare dei dipinti ufficiali perché non li avrebbe mai portati a termine. E secondo, preferiva a Ludovico il Moro affidarsi magari a pittori più, magari di meno, minor qualità, ma che portavano a termine il lavoro. La seconda ipotesi è il fatto che una volta che Ludovico il Moro è diventato proprio prigioniero dei francesi, i francesi abbiano ridotto, distrutto gli altri ritrati che aveva fatto magari Leonardo, come una damnazio memoria e quindi non ci sono più ritratti che ritraggono il Moro da parte di Leonardo. Leonardo lavora in maniera infaticabile e lavora, vi dico una curiosità, crea, potremmo dire, l'opera lirica. Perché diciamo questo? Perché crea degli spettacoli di cui abbiamo documenti proprio per la corte del Moro al Castello Sforzesco. Lui crea la famosa Festa del Paradiso. Leonardo era bellissimo in volto, una bellissima voce, sapeva suonare il liuto, sapeva comporre, sapeva realizzare dei costumi, sapeva realizzare delle scenografie. Ecco, lui era un po' come tutte le muse governate da Apollo ed ecco che lui crea l'opera lirica. Con questa Festa del Paradiso, di cui abbiamo nota di alcuni ambasciatori, alcuni della corte dei Gonzaga e quant'altro, sappiamo che ha realizzato una specie di spazio con tutti i satelliti, con dei bambini che raffiguravano i vari pianeti e una musica creata da lui, costumi realizzati da lui. Una festa incredibile per una giornata di nozze, per festeggiare un matrimonio, che lo fa diventare il primo autore operistico. Questo bisogna tenerlo ben presente. Poi, negli anni 90, possiamo dire che dal 1495 al 1497, realizza l'opera più famosa, che tutti conosciamo, perché è un'icona della storia dell'arte, cioè l'Ultima Cena. L'Ultima Cena, abbiamo detto, abbiamo parlato prima del Bramante, fa parte dello stesso progetto di ristrutturazione del convento dominicano di Santa Maria delle Grazie. Il Bramante realizza il mausoleo nella zona presbiteriale e Ludovico il Moro, invece, il nuovo cenacolo, pagato dal Moro per i Domenicani. Una struttura particolarissima, deve stendere 40 metri quadri di pittura e lui è molto lento. La tecnica in affresco non gli è sufficiente. Bisogna essere molto veloci con l'affresco. Si stende un metro quadrato e si dipinge nel giro di 36 ore, 24-36 ore, tutto deve essere fatto. A quel punto, la pittura con l'intonaco diventano un'unica cosa. Leonardo non può utilizzare questo metodo, perché è molto lento, è attento alle sfumature, ai particolari, quindi stende tutto l'intonaco, fine, eccezionale, ma dopo dipinge, possiamo dire, a secco. Tutta la pittura che lui dà sulla superficie del muro è superficiale, superficiale, quindi riesce a fare dei dettagli bellissimi, delle sfumature bellissime, ma che in pochi anni poi vanno a perdersi. Il Vasari, 50 anni dopo la realizzazione, a metà Cinquecento, quando vede l'opera, dice, io non ho visto che una macchia abbagliata. L'opera è comunque straordinaria, con Gesù Cristo al centro, come potete vedere, a forma triangolare, quindi rimanda alla Trinità. Il colore rosso del suo mantello rimanda alla porpora, lui è il re dei re, quindi sulla terra, e l'azzurro rimanda al colore del cielo. Vedete che gli Apostoli sono divisi in gruppi da tre, quindi quattro gruppi da tre, e tutti questi Apostoli sono mossi da che cosa? Gesù Cristo ha le labbra semi aperte e dice, qualcuno di voi mi tradirà. Questo crea un moto dell'animo. Ogni Apostolo è mosso proprio da un'onda fisica, da un'onda sonora. Questa è la modernità del Cenacolo di Leonardo. Ogni personaggio ha questo movimento e reagisce in maniera diversa. Chi alza un dito, chi muove le braccia, chi tocca qualcun altro, chi ascolta un'altra persona. Mentre i Cenacoli fiorentini che Leonardo aveva visto sono dei Cenacoli statici, bloccati, qui c'è una vitalità incredibile. Quindi due sono le tematiche del Cenacolo di Leonardo. L'ha il moto dell'animo e la fisiognomica. Nel volto di ogni Apostolo, nel volto di Cristo, si può capire com'è l'animo del personaggio, cosa che prima non era possibile. Leonardo lavora molto con i volti. Pensate alle sue famose caricature. Non solo caricature comiche, ma lui in personaggi che avevano molte linee del volto, molte rughe, magari sdentati e particolari, lui trovava l'anima del personaggio, trovava il moto più interno di questo personaggio. Quindi il Cenacolo ha spiegato il motivo perché è un'opera fondamentale. D'altra parte, pochi anni dopo, inizia a deteriorarsi. Questo lo fa poi nel 6-700. I restauri che vengono fatti sono peggiorativi perché non ci sono le tecniche sperimentali, tecniche utili per ringiovanire questo Cenacolo. e solo dal 1977 al 1999 la restauratrice Pinin Barcilon Brambilla riesce a portare a termine un restauro epocale. Non si sapeva come agire su questa superficie pittorica e lei, millimetro per millimetro, pulisce l'opera togliendo tutte le superfettazioni e arrivando alla pittura di Leonardo. La pittura che appare oggi è un puzzle. Sono tanti pezzettini di pittura che sono stati legati insieme dalla restauratrice con un semplice acquerello. Un acquerello reversibile se che cambieranno le tecnologie di restauro si potrà togliere lasciando l'opera di Leonardo. Perché ha fatto questo acquerello? Per rendere più leggibile l'opera. Quando si va a vedere l'opera da un po' di distanza ecco che l'acquerello uniforma un po' la pittura di Leonardo che comunque è molto carente in vari punti. Un'opera che comunque adesso è diventata leggibilissima molto chiara con queste colori queste tempere molto belle molto fluide molto interessante e quindi ritornare sempre a vedere il cenacolo. Sapete che si può stare solo un quarto d'ora nel museo per ammirarlo quindi bisogna tornare più volte per immergersi nel capolavoro di Leonardo a lavorare con Leonardo su questi ponteggi ci sono tanti allievi gli allievi mischiano non solo i colori gli danno qualche aiuto ma non fanno neanche una pennellata sul cenacolo e c'è anche un altro allievo che è arrivato da poco quattordicenne si chiama Gian Giacomo Caprotti ma Leonardo non lo chiama così lo chiama il Salai il Salai cioè il Saladino il personaggio più cattivo del Morgante di Pulci sì perché questo suo allievo che diventa il suo amante come sappiamo da tanti documenti lo definisce ghiotto ladro gli ruba i soldi per vestirsi per mangiare è un discolo ma Leonardo cade nella sua rete e per tutta la vita sarà un compagno fedele lo accompagnerà fino a in Francia e erediterà metà della vigna che Leonardo aveva ricevuto in dono da Ludovico il Moro quindi è molto interessante vedere questo personaggio del Salai alcuni dicono anche che rappresenti San Giovanni evangelista lo vediamo di fianco a Gesù Cristo e questo volto efebico ecco Leonardo amava molto questa ambiguità tra maschile e femminile questo volto efebico potrebbe proprio essere del giovane Gian Giacomo Caprotti che tra i 14 e i 17 anni è presente sui ponteggi del Cenacolo potrebbe anche aver dato il volto al famoso San Giovanni Battista che vediamo riprodotto nelle immagini San Giovanni Battista con questo dito innalzato verso il cielo lui dice io sono solo un personaggio secondario rispetto a Cristo ma Cristo è la persona più alta di me colui che vi porta verso il cielo e guardiamo un po' i capelli di questo San Giovanni Battista sono lo studio del fluido lo studio del flusso d'acqua come San Giovanni Battista aveva battezzato con l'acqua Cristo ecco che così viene associato i suoi capelli a un torrente in piena a un fiume in piena come aveva visto Leonardo nella zona del Ticino dell'Adda o nei piccoli fiumi che andavano poi a comporre il lago di Cuomo proprio nei viaggi che abbiamo detto verso Bormio ma vi faccio vedere un'immagine molto particolare abbiamo visto che San Giovanni Battista ha questo movimento del braccio verso l'alto ma possediamo anche molti disegni erotici di Leonardo ve ne faccio vedere uno possiamo dire in esclusiva su questa carta azzura e vedete che è lo stesso personaggio di San Giovanni Battista sempre col dito verso l'alto ma anche con il sesso maschile in erezione e ci mostra proprio un disegno quasi nascosto da Leonardo magari ne ha fatti molti e molti altri ma solo pochi sono sopravvissuti ecco questa immagine così erotica potrebbe essere sicuramente un'immagine del nostro Salai del nostro Gian Giacomo Caprotti che ha accompagnato Leonardo in tutta la vita una situazione molto particolare perché dopo da questa immagine erotica lui ne trae invece un'immagine santificata cioè quella appunto di San Giovanni Battista questo è molto interessante capirlo per capire un po' le tematiche di Leonardo quindi la tematica della fisiognomica della moto dell'animo e anche di questa ambiguità costante tra il maschile e femminile pensate a Ginevra Benci anche a un'immagine ora conservata a Washington questo dipinto un'immagine tra il maschile e il femminile ma il dipinto di cui non stiamo parlando in questo momento perché non riguarda Milano è la Gioconda la Gioconda ha sempre avuto questa ambiguità alcuni dicono appunto che sia un uomo dietro questo aspetto ambiguo del volto quindi è qualcosa di molto particolare sono aspetti molto molto interessanti e sempre per Milano abbiamo parlato adesso di scultura e di pittura possiamo parlare di musica ma non la musica che lui ha realizzato per la festa del paradiso ma della musica militare abbiamo tanti disegni di carri degli automi con dei tamburi con tante mazze che suonano la musica militare prima che l'esercito attacchi un'altra popolazione quindi anche Leonardo come musicista come tecnico come architetto militare è un tutt'uno lui riesce in tutto a sviluppare la sua idea di scienziato a tutto campo lui utilizza anche una specie di strumento che adesso noi vediamo in una ricostruzione nell'immagine che è una via di mezzo tra un violoncello un organo e un clavicembalo cioè uno strumento epocale che non sappiamo se poi sia stato effettivamente ricostruito ma dalle costruzioni ricostruzioni moderne possiamo vedere che ben funzionava a quell'epoca quindi abbiamo visto anche il Leonardo musicista di cui abbiamo comunque solo una diciamo così una percezione un po' più lontana perché non abbiamo effettivamente i suoi strumenti ma solo i disegni dei suoi strumenti abbiamo alcuni disegni di Leonardo Architetto qui a Milano e qual era la fabbrica in quegli anni più complessa era quella del Duomo il Duomo si stava completando il transetto e l'inizio della navata e quindi si stava completando la parte del Tiburio la parte che collega appunto la navata con il transetto e in tante città noi conosciamo la cupola che sta in questa intersezione invece tipica dell'architettura lombarda è il Tiburio Tiburio deriva dalla parola Tugurio che vorrebbe dire capanna una capanna realizzata così alla bene meglio ecco Tugurio e Tiburio diventa una parola invece più sofisticata più architettonica abbiamo alcuni disegni che ci rappresentano ne possiamo vedere qualcuno questa architettura dove ancora si utilizza l'arco gotico per scaricare le forze sappiamo che poi il progetto di Leonardo per quanto preso in considerazione non è stato poi accettato per la costruzione e in ultimo sempre per quanto riguarda i disegni vediamo Leonardo urbanista abbiamo delle piante di Milano a volo d'uccello dall'alto delle piante modernissime dove possiamo scorgere al centro il Duomo da un lato il castello i centri del potere religioso e politico delle piante incredibile qualche anno dopo farà per il Duca Valentino addirittura la pianta di Cesena e utilizzerà un marchigegno che è stato ricostruito dove cadono delle biglie e ad ogni caduta di una biglia si faceva una misurazione perfetta della pianta di Cesena ancora adesso quella pianta è utilissima è perfetta e può essere utilizzata per gli studi moderni quindi un Leonardo completo in tutta la sua attività un Leonardo che ci lascia tantissime opere a Milano alcune poi sono scappate per i musei di tutto il mondo ma alcune ritornano per esempio la Madonna Litta che è stata realizzata probabilmente qui a Milano insieme a collaboratori come Marco Dogiono o Cesare da Sesto dall'Ermitage è tornata al Museo Pol di Pezzoli per un certo periodo quindi è molto interessante il rapporto continuo tra istituzioni internazionali e Milano che è orgogliosa di questo suo figlio possiamo dire ma nel 1499 succede qualcosa di particolare Ludovico il Moro perde la guerra contro Luigi XII il mausoleo di Santa Maria delle Grazie viene interrotto la chiesa è infatti attualmente metà gotica e mità rinascimentale per fortuna il cenacolo era terminato ma non era terminata la sala delle asse la sala dell'asse che è nel castello sforzesco rappresenta alcuni alberi di gelso perché è il gelso? innanzitutto il gelso era stato introdotto da pochi anni proprio dai visconti e sforza come pianta per la bachicoltura la produzione di seta quindi era un simbolo del rinnovamento visconti e sforzesco ma gelso in latino si dice anche morus moro che è appunto il soprannome di Ludovico il Moro quindi in quella zona del castello sforzesco Ludovico il Moro è il suo studiolo quando esce dallo studiolo lui si trova in una grande sala e gli sembra di essere invece all'aperto con tutti questi gelsi che creano un intreccio di fronde nella parte più alta come realizza questo intreccio di fronde? semplicemente lui studia per esempio il cuore e le sue vene e le sue arterie e lui vede che come il cuore ha queste vene arterie che sono molto grandi vicino al cuore e poi si riducono mano a mano che vanno nelle membra del corpo così è come l'albero del gesso come tanti alberi che hanno i rami sempre più grossi ad agio ad agio si riducono sempre quindi un legame anche con lo studio anatomico e tutti questi rami sono intrecciati e sono intrecciati ulteriormente con una corda d'oro se voi venite al castello sforzesco proprio in occasione di questi 500 anni dalla morte di Leonardo l'istituzione comunale ha piantato dei gelsi e li ha fatti intrecciare speriamo che nei prossimi anni appunto si sviluppino sempre meglio così da creare un verso completo e vedere nel giardino del castello la realizzazione diciamo così reale e poi entrare nel castello e avere la percezione invece del dipinto di Leonardo recentemente si sono scoperte adesso ve le faccio vedere molte radici di questi gelsi di questi mori si vedono molte radici complete col disegno perfetto di Leonardo alcuni sono attribuiti alcuni sono sicuramente suoi e fa vedere che il lavoro è rimasto incompiuto perché abbiamo dei disegni non dipinti non colorati quindi Leonardo ci lavora fino al 1499 ma quando Ludovico il Moro è in prigione nella zona dei castelli della Loira a quel punto Leonardo non ha più chi lo paga e allora inizia una perigrinazione continua va logicamente a Venezia va a Mantova va a Roma lavora per il Papa anche ritorna a Firenze dove tenta di fare la battaglia di Anghiari questa volta con la pittura in causto ancora più difficile che la pittura che aveva sperimentato prima e poi ritorna a Milano questa volta torna a Milano però la bandiera che garrisce a Milano è la bandiera francese è vero che ci sono sempre i figli del Moro ma sono in realtà delle marionette in mano ai francesi in questo periodo progetta altre cose e inizia a fare il dipinto della Sant'Anna metterza Sant'Anna con la Madonna e il Bambino che adesso si trova alla National Gallery di Londra prosegue alcuni dipinti che aveva già impostato ma non è più la stagione fervida che aveva caratterizzato invece dal 1482 al 1499 e logicamente poi accetta la proposta che gli fa il nuovo re di Francia che è Francesco I re di Francia gli chiede Francesco I di andare nei castelli della Loria Amboise Abbois e quant'altro e gli chiede semplicemente di una collaborazione non deve produrre niente non deve dipingere non deve scolpire deve solo conversare con il re la cifra pattuita è quella di 700 scudi d'oro vuol dire che Leonardo l'ha ricevuto per tre anni 800.000 euro attuali questa è la mia conversione in euro solo per conversare quotidianamente con il re e infatti Leonardo in quel periodo non produce più di tanto sistema qualche dipinto oltretutto ha un braccio destro paralizzato sebbene lui sappiamo che scriveva e dipingeva con la sinistra quindi sono anni più tranquilli possiamo dire però è un grande onore per lui essere alla corte di Francia il periodo più vivido della sua carriera sono proprio gli anni milanesi e spero che durante questa breve lezione vi abbia potuto un po' illustrare la bellissima carriera che ha fatto Leonardo a Milano ci sentiamo per una prossima interessante lezione sempre su questo canale awing a a Grazie a tutti.